Vorrebbe diffondere serenità Gigi De Cani a Torre del Grifo e nella conferenza stampa pre-gara predica calma perché i problemi da risolvere sono ancora tanti. In questo momento il vero problema di questa squadra è solo uno, la rosa decimata. Spero di non averne perso un altro. Glissa così l'allenatore sugli infortunati ma è disponibile in modo particolare. A Leto e Lopez lancia messaggi precisi. Leto è un calciatore che si sta recuperando al calcio. Necessita di una gradualità. Io non so in che modo si sia parlato di Maxi Lopez in questa settimana. Che ho trovato un ragazzo ed una squadra desiderosi di riscattarsi tutti. Non svela nulla sulla formazione il tecnico De Rosso Azzurri che tuttavia pensa ad un 4-4-1-1 mascherato da 4-3-3. Con Anduar tra i pali, Alvarez e Biraghi sugli esterni di difesa e le grottaglie Guionber al centro. In mediana aggiranno Izgo Taxidis al Miron con Castro che arretrerà in fase di non possesso palla. Checo aggirà alle spalle di Lopez. La nota lieta arriva dalla Corte di Giustizia federale che ha sospeso l'inibizione al presidente Pulvirenti fino al 2 dicembre. Combinata al massimo dirigente Rosso Azzurro dal giudice sportivo per aver colpito con una spinta una Stewart in occasione di Juventus Catania nello stadio dei Bianconeri. Prevendita scarsa venduti poco più di 1.500 tagliandi.